ci troviamo con fabiana carpella siamo nel corso del primo raduno della nuova nazionale juniors e giovani allora prima riunione per voi primo incontro però credo vi conoscevate più o meno tutti e vedo anche già un bel clima in squadra sì 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 sicuramente siamo un bel gruppo ci sono alcuni ragazzi nuovi però già ci conoscevamo perché con alcuni ci siamo trovati mondiali o ma anche in coppa italia alla fine ci conosciamo più o meno tutti quindi da subito siamo andati d'accordo e abbiamo fatto un bel gruppo tra che con gli allenatori ormai vi conoscete da svariati anni credo anche questo sia un bel vantaggio sì sì anche con gli allenatori c'è veramente un bellissimo rapporto perché io ormai sono tre anni che sono in squadra e poi vabbè con pietro che mi segue a casa praticamente ogni giorno ma poi anche con tutti gli altri diciamo che mi trovo veramente bene sono sono veramente in gamba tutti quanti e ci danno sempre una grande mano ti volevo chiedere tornando sulla passata stagione sei soddisfatta per come sono andate le cose ma si dai più o meno diciamo poteva andare un pochino meglio soprattutto soprattutto al tiro però cercherò di lavorare quest'anno abbiamo già iniziato a migliorare alcuni aspetti e spero di poter di poter crescere a proposito quali aspetti vuoi migliorare credo soprattutto il tiro in piedi la stabilità però anche anche sul tiro perché no sì sulla parte del fondo perché ci siamo accorti che c'è veramente un altissimo livello anche anche solo in ebook up junior quindi bisogna lavorare su quello e crescere tanto perché poi abbiamo visto l'anno scorso al mondiale atleti e giovani di altissimo livello penso alla Grotian ma anche la stessa Sarah Anderson entrambe sono addirittura in squadra sì sì infatti quando le vediamo mi chiedo sempre ma come cavolo fanno essere così forti però vabbè magari se ci alleniamo possiamo raggiungerle in qualche modo che effetto fa a vedere per esempio anche un atleta che si è allenata con te questi ultimi anni come Sarah scatola adesso allenarsi con il gruppo con Lisa Vittozzi e le altre certamente è uno stimolo perché conosco bene Sara e so che se è riuscita lei a riuscire a passare a questo gruppo quello credo che con l'allenamento e il lavoro riusciremo anche tutti noi all'ultimo se volevo chiederti ovviamente periodo particolare per te perché oltre aver ripreso la preparazione anche l'esame di maturità quindi ti volevo chiedere intanto se riesci a studiare durante il raduno e comunque se è una cosa che un pochino ti distrae in questa fase ma no distrae neanche tanto in realtà faccio faccio tutto l'allenamento tutto il giorno poi dopo cena mi metto un po po di impegno a studiare un'oretta un po di più e basta poi quando tornerò a casa mi metterò ancora di più perché devo farlo ciao